Ciao ragazzi, in questo video vi faccio vedere ancora un po' degli upgrade che ci sono in AdScouter vediamo un po', diciamo, andiamo ad approfondire un po' questi upgrade e vediamo perché e in quali casi vale la pena fare appunto gli upgrade il primo upgrade è quello dell'intelligenza artificiale ed è quello di cui diciamo in particolar modo ti dà la possibilità come abbiamo visto, ti avevo già fatto vedere nei precedenti video, ti dà la possibilità di accedere all'intelligenza artificiale nel trovare testi all'interno dell'immagine e nell'andare ad avere anche, diciamo, nella tua selezione di ads anche quelle relative al carosello quindi in questo caso va a trovare immagini e testi anche all'interno dei caroselli, quindi di quelle sequenze di immagini in sostanza quindi sempre nell'ambito del, diciamo, dell'upgrade dell'intelligenza artificiale quello che ti voglio segnalare, oltre a questo, è che hai accesso ogni mese a 30, diciamo, alle 30 ads più profittevoli quindi ogni mese praticamente dallo spotlight, praticamente accedi da qui quindi accedi ogni mese, hai le 30 ads più profittevoli che trova il software per te quindi puoi trarre anche ispirazione anche per trovare prodotti, diciamo, da promuovere come affiliato, eccetera, eccetera poi puoi richiedere di aggiungere dei nuovi advertiser cioè se tu vai praticamente qua e cerchi le pubblicità di un determinato advertiser e non lo trovi nell'elenco che compare qui sotto perché probabilmente il software non l'ha ancora rilevato grazie a questo upgrade puoi da qua andare ti faccio vedere, aspetta che chiudo puoi andare a richiedere ecco qua, request advertiser inclusion quindi qua c'è un form devi aggiungere il tuo indirizzo email il nome dell'advertiser che vuoi aggiungere e il link della libreria dell'advertiser su Facebook tieni presente che è un passaggio molto semplice ti lo inviti, te lo mandano e in ogni caso anche questo passaggio per i miei affiliati cioè chi compra questo programma con il mio link di affiliazione che entra nella mia area membri avranno il mio supporto nel utilizzo di questa richiesta nel caso hanno necessità di farla quindi possono avere il mio supporto per fare questa richiesta procediamo nell'analisi diciamo degli upgrade supporto VIP ok vediamo un attimo l'upgrade supporto PRO in questo caso c'è una funzione molto interessante quindi questo è un upgrade che ti consiglio assolutamente perché ti dà la possibilità di essere avvisato quando un tuo competitor che stai monitorando va a attivare nuove ads o a disattivare delle ads ti faccio vedere come si fa ti ricordo che se eventualmente hai già acquistato questo programma quindi hai già fatto il tuo percorso all'interno del funnel di vendita di questo programma e magari hai acquistato solo la versione premium senza acquistare gli upgrade puoi dal tuo adscouter andare in upgrade che è comunque la schermata che stavamo vedendo prima questa qua aspetta che la cerco beh la apro una nuova vado in upgrade vai in plans tradotto piani e ti trovi appunto in questa schermata qui poi come vedi intanto ti faccio vedere che se prendi anche il supporto agenzia c'è il supporto per diverse lingue infatti vedi che da qua io ho in questo caso settato in italiano tutto il programma e quindi tutto è tradotto in italiano questo è un upgrade è l'upgrade agenzia ok quindi ti faccio vedere eravamo all'upgrade pro ti faccio vedere come puoi monitorare la concorrenza andiamo nel nostro ok la nostra pagina qui ho fatto l'esempio sempre della pizzeria prendiamo ad esempio vediamo un attimo non so ipotizziamo che vogliamo seguire questo advertiser quindi se noi clicchiamo quindi grazie all'upgrade all'upgrade pro quindi questo upgrade qua l'upgrade pro praticamente noi possiamo da qua cliccare su follow ok in questo caso il programma è impostato che ci avvisa quando questo advertiser crea delle nuove pubblicità o ne disattiva alcune quindi davvero molto molto utile se vuoi smettere di seguire questo advertiser smettere di avere delle notifiche clicchi su unfollow poi procediamo nel nel vedere assieme diciamo gli upgrade punteggio SEO della pagina e analisi competitiva cioè all'interno di ogni advertiser prendiamo un attimo ad esempio questo qua clicchiamo su explore more praticamente qua hai anche il punteggio di authority calcolato sulla pagina quindi sulla pagina a cui si rifà la pubblicità e su tutto il dominio quindi sono i punteggi se ti occupi di SEO sai che questi sono valori interessanti molto interessanti per monitorare l'autorità SEO di questo di questo inserzionista poi procediamo sempre nell'analisi degli upgrade hai sempre nell'upgrade pro la possibilità di farti fare 20 annunci al mese dai professionisti di questo software quindi in questo caso praticamente ti faccio vedere vai da qua vai a cliccare richiedi annunci done for you eccolo qua apriamo ti si apre anche qui un altro form di google in cui metti la tua email la tua nicchia dove sei se vuoi diciamo ispirarti ad alcune pubblicità che hai visto puoi aggiungere uno screenshot caricare uno screenshot qua delle pubblicità puoi aggiungere diciamo che caratteristiche deve avere la tua immagine in sostanza e poi l'URL della tua fanpage su facebook anche questo modulo se hai bisogno di una mano se hai acquistato il programma con il mio link di affiliazione all'interno dell'area membri con più che piacere ti darò una mano allora procediamo allora abbiamo visto il pro agenzia quindi upgrade agency praticamente di interessante ok qua nell'upgrade agency ci sono alcune cose molto interessanti soprattutto se ti occupi di fare pubblicità per diversi tuoi clienti magari o vorresti iniziare a fare pubblicità per diversi tuoi clienti magari dici voglio fare pubblicità per pizzerie per nuovi ristoranti per palestre quindi ti si aprono nuove opportunità di business quindi in questo caso cosa si può fare? si possono innanzitutto creare sub utenti quindi immagina di avere una squadra di collaboratori in questo caso ti faccio vedere da qua puoi andare a vediamo un attimo ecco manage agency user ok apriamo da qui puoi aggiungere un nuovo utente metti nome cognome l'email la password riconfermi la password e decidi quali progetti condividere con questo utente perché adesso ti faccio vedere grazie a questo upgrade agency puoi creare delle cartelle in cui metti dentro dei progetti delle ads e puoi condividerle con utenti specifici ti faccio vedere un po' come creare appunto le cartelle allora andiamo un attimo esatto vedi qua i client campaign management system in sostanza ti faccio vedere quando siamo qua io posso aprire appunto campagne ok è una nuova scheda e in questo caso posso creare una nuova campagna ad esempio potrei mettere pizzerie creare ok ho creato una campagna adesso io vado qua nei miei ads e voglio salvare alcune ads nella cartella pizzerie che andrò a condividere con i miei subutenti dell'agenzia o i miei collaboratori quindi vai a cliccare qui su salva come vedi abbiamo la nostra campagna pizzerie salviamo ok quindi è stato salvato a questo punto io vado in campagne ok apro la mia cartella pizzerie se la apro ho dentro la mia ads che ho salvato qui quindi posso salvare tutte le mie ads in cartelle e poi come vi ho detto nel diciamo quando io vado a gestire gli utenti quindi sono dei collaboratori io posso decidere di dare a un nuovo collaboratore ad esempio vedi qua è già comparso pizzerie quindi quando creo il nome e cognome email password creo il profilo gli condivido con lui uno o più progetti che ho creato quindi molto molto interessante ok il supporto per dirsi lingue te l'ho detto quindi essenzialmente anche diciamo l'upgrade agenzia è molto molto interessante manca da vedere il diciamo l'upgrade ad creator con il creator delle immagini video e tutto il tool che ti fa fare delle cose molto interessanti ma te ne parlo nel prossimo video che sto per realizzare tra poco ci vediamo al prossimo video video Grazie.